carissimi buon sabato a tutti voi iniziamo questo nuovo mese il mese di giugno e oggi è il primo giugno il mese anche dedicato al sacratissimo cuore di gesù ascoltiamo la parola del vangelo secondo marco in quel tempo gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a gerusalemme e mentre egli camminava nel tempio vennero da lui i capi dei sacerdoti gli iscrivi e gli anziani e gli dissero con quale autorità fai queste cose o chi ti ha dato l'autorità di farle ma gesù disse loro vi farò una sola domanda se mi rispondete vi dirò con quale autorità faccio questo il battesimo di giovanni veniva dal cielo o dagli uomini rispondetemi essi discutevano fra loro dicendo se diciamo dal cielo risponderà perché allora non gli avete creduto diciamo dunque dagli uomini ma temevano la folla perché tutti ritenevano che giovanni fosse veramente un profeta rispondendo a gesù dissero non lo sappiamo e gesù disse loro neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose parola del signore la parola autorità è centrale in questo brano autorità risuona sulla bocca dei sacerdoti degli iscrivi come potere forza dominio chi è questo garileo che in modo così plateale mette in discussione le regole del tempio e gesù viene interrogato ma non risponde e a sua volta interroga i suoi interlocutori molte volte anche noi fingiamo di cercare delle risposte ma in realtà non cerchiamo la verità facciamo solo finta mettersi in cammino con gesù non è un percorso facile unica lamba dai nostri passi e sempre la sua parola letta riletta assimilata vi auguro una buona e santa giornata dio vi benedica nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen alleluia